Casa è anche un cammino di quasi 3000 chilometri. Scuola può essere la sella di un asino da cui osservare il mondo. Una famiglia francese ci ha scommesso tempo, energia e fede. Elise e Nils Payel, marito e moglie, hanno intrapreso un lungo pellegrinaggio cattolico con i loro tre figli, Martin, sei anni, Lupe, quattro anni e Augustin, due anni. E, dettaglio ancora più curioso, insieme a due asini. Questi fedeli d'oltre Alpe hanno fatto tappa a Piacenza, dove chiaramente non sono passati inosservati. Molti cittadini li hanno fermati per conoscerli e scattare una fotografia. I due francesi hanno iniziato il pellegrinaggio lo scorso maggio. Siamo partiti da maggio per un pellegrinaggio, per andare a Roma, fino a Roma, per la nostra famiglia, per la nostra fede. Cosa fate nella vita? Siamo tutti e due medico, abbiamo stoppato il nostro lavoro per questo progetto. La famiglia francese ha già percorso 2000 chilometri, passando attraverso l'Urd, la Provenza, le Alpi, Torino, Pavia e ora il nostro territorio. Abbiamo bisogno degli asini per portare i bagaggi e i bambini. Una volta salutata Piacenza, i pellegrini affronteranno gli ultimi 800 chilometri della spedizione, verso Assisi Roma, con la speranza di poter vedere il Papa.